Le nuove sale parto dell'ospedale di Santo Mero rappresentano una delle eccellenze della regione Abruzzo e del centro-sud. L'inaugurazione, svoltasi nei giorni scorsi infatti, ha visto la partecipazione di molte autorità civili del territorio e tra gli altri del Vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia, dell'Assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, dell'Assessore del territorio, Dino Pepe, e del Direttore generale della Asla di Teramo, Roberto Fagnano. Corposo l'investimento da parte delle Asl per un percorso iniziato durante la precedente gestione che di fatto va a completare il percorso del punto nascita a Santo Mero. Prendiamo questo momento di orgoglio, l'inaugurazione di queste bellissime nuove sale parto grazie alla lungimiranza anche di chi ci ha preceduto ma soprattutto al lavoro degli operatori che sono qui e ci hanno creduto e hanno oggi consentito alla Sanità Teramara di avere un risultato brillante e di questo siamo soddisfatti. Da oggi, per tanto, per le nuove puerpere, l'offerta sanitaria sarà ancora più ampia e qualificata grazie alla possibilità di poter usufruire di una struttura per il parto in acqua e di un'altra per il parto in dolore. Presente tra gli altri il professor Felice Patacchiola, direttore di Ossetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Santo Mero. Fondamentalmente partorire in sicurezza, poi senza dolore ovviamente siamo stati un po' la città campione diciamo l'ospedale campione dell'Asla di Teramo e quindi riusciremo a garantire anche quello ma la sicurezza è la cosa fondamentale. Nonostante l'ospedale Val Vibrata, che rappresenta una struttura sanitaria di frontiera a confine con le marche e un presidio che soffre il problema della mobilità passiva, in controtendenza registra anche una discreta mobilità attiva è sufficiente a controbilanciare le uscite di cassa dalla sanità abruzzese a quella marchigiana. I dati sono positivi soprattutto per l'ostetricia, vuol dire che è un fatto di attrazione attrazione che è anche economia per questo territorio e di questo continuiamo, ripeto, ad esserne orgogliosi. Il futuro della sanità nel governo regionale d'Alfonso deve essere quello di una riqualificazione del sistema sanitario regionale. Noi ci lasciamo alle spalle anni di sacrifici, di razionalizzazioni, in qualche caso di qualche taglio oggi è venuto il momento di elevare la nostra qualità, la qualità dell'offerta sanitaria, ospedaliera e territoriale e sociosanitaria e ovviamente l'inaugurazione di oggi va verso quella direzione. È un primo passo e tanti altri ve ne saranno in ordine alla riqualificazione del sistema sanitario abruzzese.